Gentili degli spettatori dei protagonisti, compagnia di un odo giornalista, lui è Olivier Robea. Ciao Olivier e benvenuti su Protagonista. Grazie. Stasera celebriamo un maestro e un simbolo del teatro italiano, Giorgio Albertazzi, Shakespeare in jazz. Una commedia tra drammi, improvvisazioni, gioco e commedia. Beh, Shakespeare si sarebbe divertito con Albertazzi, Albertazzi si diverte con Shakespeare e tutti noi ci divertiamo con il lodo al fan. Una massima di Shakespeare, quanto è importante riprendersi dopo una sconfitta e ripartire più forte di prima? Beh, questo bisognerebbe chiederlo al Presidente del Napoli, De Laurentiis. Noi che veniamo da lì ti lascio immaginare. Per quello ho detto. Senti, ti volevo dire in ultimo, l'amore che cos'è per te? Il senso della vita, ma anche il senso della vita è amore, quindi insomma è un circolo vizioso. Laddove ci sia stato un abbandono di natura professionale o emotiva, la tua reazione qual è stata? Che sta una domanda da un milione di dollari, dipende. Allora, abbandoni professionali, vengo da 40 anni di censure, se mai avessi dovuto prendere per ognuno di esse sarei già morto. E invece dall'altro punto di vista, ringraziando di Dio, non è successo. Senti, guardando in camera, il tuo saluto al format che siamo i protagonisti da Oliver Bè. Mi raccomando, sti protagonisti, io vi saluto ma rimanete protagonisti, non fate i caratteristi, rimanete professioni. Grazie a tutti.